Nuova Ponente, a circa mezz'ora di strada da Bolzano. Questo nuovo ski lift è il classico esempio di come la provincia di Bolzano sostenga progetti e iniziative di piccole dimensioni che però hanno enormi ricadute sulla società e sull'economia locale. Stiamo parlando degli investimenti e incentivi ai piccoli comprensori e ai cosiddetti ski lift di paese. Qui nascono i piccoli campioni, ma oltre a questa è una funzione anche per il turismo ovviamente perché da qui questa è la base anche per i grandi impianti, per le grandi zone sciistiche e questo è il motivo per il quale finanziamo fino all'80% gli investimenti di questi piccoli impianti che sono davvero un punto di eccellenza nel nostro territorio. Ne abbiamo 40 in Sud Tirolo mentre in altre regioni stanno morendo invece qui stanno rafforzando tutto il sistema turistico. Per gli investimenti nei comprensori sciistici sono coinvolte per lo più due ripartizioni. La ripartizione mobilità che concentra i suoi sforzi su un impianto di risalita veri e propri per un importo l'anno scorso di poco meno di 10 milioni di euro. E poi la ripartizione economia che nel periodo 2016-2017 ha investito 20 milioni di euro. La ripartizione economia finanzia tutta la parte relativa all'attrezzatura degli impianti da scii tranne gli impianti di risalita. Questi contributi sono fondamentali perché senza di essi questi investimenti non sarebbero sostenibili da parte dei piccoli soprattutto. Quindi il contributo della provincia è il presupposto perché possano continuare ad esistere e svilupparsi e essere attrattivi. Quindi i gatti delle nevi per intendersi, gli impianti di innevamento fondamentali chiaramente, l'illuminazione delle piste, le reti di sicurezza, i parcheggi e i bacini idrici che sono fondamentali per l'innevamento delle piste. L'importanza del sostegno ai piccoli impianti di risalita è confermata anche dagli studi e dalle analisi da parte degli esperti. È importante perché in Alto Adige abbiamo ben 40 piccoli centri scistici e impianti di paese. Questo vuol dire che parliamo sempre dei grandi, ma dietro a queste piccole c'è una realtà soprattutto socio-economica per il paese, per i piccoli circoli economici e locali, importantissimo. In più, sempre di più in futuro, ci sono anche gli ospiti che stanno scoprendo questi piccoli centri scistici perché offrono un ambiente sicuro, un ambiente molto autentico del nostro territorio e li scoprono in determinati periodi della loro vita, quando hanno i bambini piccoli, quando non possono permettersi di spendere tantissimo e allora cercano queste piccole realtà perché calzano bene in questo determinato periodo. Sono importanti perché più varietà abbiamo, più varietà possiamo offrire sul nostro territorio, meglio sappiamo rispondere alle varie esigenze ai nostri clienti. I sosteni che arrivano dalla mano pubblica si traducono in immediati investimenti sui piccoli comprensori e impianti di risalita. È importante avere questi fondi dalla parte della provincia perché senza quelli del comune non si sarebbe in grado di attuare un investimento così importante. Noi abbiamo comprato un ski lift nuovo, poi abbiamo anche fatto l'impianto di illuminazione nuovo con tecnologia LED per risparmiare anche il corrente e poi abbiamo potenziato ancora il nostro già esistente impianto di nevamento. Abbiamo comprato due canoni modernissimi che sono situati su delle torri fissi e installati. Anche chi gestisce i grandi comprensori scistici in Alto Adige riconosce l'importanza della presenza di piccoli impianti come quelli di Nova Ponente. Gli impianti di paese sono molto importanti. Noi qua a Nova Ponente ne abbiamo due. Chiaramente qua i nostri giovani bambini imparano a sciare. Le famiglie possono trascorrere il tempo libero. E dall'altra parte sono anche una importante infrastruttura per il turismo. Fanno parte un po' della nostra zona sciistica di Uber Ecken anche perché è un'alternativa alla grande zona sciistica. E tutto questo ha una ricaduta importante proprio su una delle colonne dell'economia altoatesina e cioè il turismo. In un anno i pernotamenti in provincia di Bolzano sono infatti aumentati del 9% e gli arrivi del 7,4%. Grazie a tutti.